Mutuo in tasca a valutare la capacità di reddito del cliente, questo impegno poi viene formalizzato attraverso la stampa di una lettera con la quale il cliente una volta che avrà trovato la sua casa potrà tranquillamente avviare la trattativa, chiudere il suo compromesso, tornare in banca e finalizzare quello che è stato l'impegno assunto nei mesi precedenti. Con Mutuo in tasca noi raggiungiamo questo obiettivo perché con Mutuo in tasca il cliente avrà la serenità di cercare la propria casa avendo la certezza del Mutuo.